La Lega è un movimento un po' matto, un po' folle e coraggioso, però nei momenti di crisi la storia insegna che sono i matti a cambiare la storia se hanno i piedi ben piantati per terra. Quindi come siamo partiti sostanzialmente da soli con la battaglia no euro due anni fa che adesso fortunatamente è battaglia di cultura diffusa, grazie ad Armando, al partito Italia Nuova e al professor Rabuschka sabato lanciamo il secondo pilastro della nostra rivoluzione culturale prima ancora che economica che copia, perché non siamo dei geni, che copia quello che funziona in 40 paesi al mondo che l'aliquota fiscale unica secca il 15%, quindi la nostra scommessa anche per combattere la stessa corruzione che sta emergendo a Roma, la gente in un sistema fiscale burocratico incasinato si infila ovunque e riesce a corrompere ovunque. Un sistema fiscale che prevede la dichiarazione dei redditi di una pagina e che ti dice su quello che hai guadagnato nel 2014 tu mi dai il 15% è più difficilmente complicabile e corruttibile. Quindi da sabato partiamo con questa che spero sia una battaglia di tutto il centro-destra, è importante che sia seria e concreta, non alla Renzi. Non ci interessano le slide alla Renzi e gli 80 euro gettati fuori dalla finestra. Deve essere una proposta seria e documenteremo sabato con i numeri perché l'Italia potrebbe ripartire con questa rivoluzione fiscale. Rispetto all'ultima volta, ormai qua siamo di casa, ringrazio gli squisiti ospiti, anche a livello internazionale stiamo crescendo, sono stato al congresso del fronte nazionale di Marine Le Pen, sono stato il lunedì dell'immacolata non a casa a fare il presepe. Perché, e lo dico per gli amici della stampa estera, purtroppo si deve fare battaglia in Italia anche per fare il presepe. Ormai siamo a un livello di autolesionismo e di masochismo tale che ci sono ormai decine di istituti scolastici che vietano il presepe per un malinteso sentimento di accoglienza e di integrazione. Che è una cosa demenziale perché tu puoi accogliere o includere se hai un'identità tua, non se ti dimentichi da dove vieni. Però l'un giorno di immacolata sono stato a Mosca, non per prendere e chiedere soldi evidentemente come qualche buontempone giornalista ha avuto modo di scrivere, ma perché esposiamo i contenuti politici di una visione diversa dell'Europa di oggi e quindi che per noi passa anche da Mosca, passa da Parigi, passa da Amsterdam, passa da Vienna, non passa da Bruxelles. L'Europa di oggi non è riformabile dal mio punto di vista, bisogna abbatterla in toto e ricostruirla da capo. A Bruxelles non c'è niente di riformabile, c'è un gruppo di persone che hanno in odio i popoli e le economie italiane in particolare, quindi prima li abbattiamo, prima abbattiamo il nuovo muro di Berlino che è a Bruxelles e prima torniamo a lavorare e a competere. Questo è il quadro internazionale che non ci vede ostili a nessuno evidentemente perché ci sono, siamo stati contattati da rappresentanze di tanti paesi al mondo, dagli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, a Israele, quindi noi non abbiamo come tifosi di calcio, non tifiamo per Putin contro il resto del mondo, semplicemente riteniamo che in questo momento chi gioca alla guerra con Putin sia un deficiente e quindi in questo momento chi parla di schierare truppe NATO ai confini con la Russia vuole riportarci indietro di 30 anni in un clima di guerra di cui l'Europa sicuramente non ha bisogno, visto che purtroppo le guerre vere ci sono altrove, il pericolo non è la Russia in questo momento. Va bene, grazie, passiamo alla domanda come al solito. C'è prima di tutto una domanda di Riccardo, se è del Figaro, prego. Sì, buongiorno. Volevo parlare della sua alleanza con Marine Le Pen. Lei è stata al congresso del fronte nazionale a Parigi. Abbiamo sentito delle parole carine di Marine Le Pen per dire lui esattamente che cosa ha detto. Io ho sentito che si è detto colpito dalla sua energia o in estasi esattamente quali sono state le parole. Poi soprattutto la domanda è che con questa alleanza con il fronte nazionale la Lega ha cambiato strategia, ha definitivamente abbandonato la via del secezionismo, la rivendicazione di secezionismo e di separatismo e ha preso una via nazionalista e populista e così? Marine Le Pen ha avuto parole gentilissime nei miei confronti che io ricambio visto che in Italia ci manca una Marine Le Pen visto alcune delle donne politiche che ci sono in Parlamento in Italia. No, la Lega non cambia pelle. Io l'ho detto anche al congresso del fronte nazionale con cui condividiamo tantissime battaglie in comune, anzi stiamo costruendo un fronte di liberazione per l'Europa perché l'Europa in questo momento è occupata non dai carri armati ma dalle banche e dalla finanza, soprattutto straniere. Quindi vogliamo che l'Europa torni proprietà degli europei e non di qualcun altro. Ma al congresso del fronte nazionale ho detto che io sono e rimarrò per sempre autonomista, federalista e convinto del diritto all'autodeterminazione dei popoli in qualunque parte del mondo. E quindi possiamo essere d'accordo con il fronte nazionale sul 99% delle battaglie e non cambio il mio DNA per convenienza politica. In questo momento in Italia l'analisi della Lega Nord è che l'emergenza sia nazionale. L'emergenza di disoccupazione e migrazione è un'emergenza nazionale, da Bolzano a Catania. E quindi questa è la priorità, far ripartire il lavoro. Detto questo continuiamo a essere convinti del fatto che l'Italia sta insieme se riconosce le sue diversità con un sistema federale, altrimenti salta tutto. C'è una domanda di Michela Terroni, che è lombarda per informazione, che lavora per l'accessi austriaca APA. C'è un microfono? Io volevo un'informazione, so che ci sono stati vari respingimenti o diciamo così da parte alla frontiera austriaca, molti profughi, insomma, vengono un po' rispediti in Italia, cosa che ha scatenato anche la vostra protesta. So che siete contro un progetto di creare un centro di accoglienza al Brennero. Come vede la situazione e cosa chiedete all'Austria? L'Austria fa bene a difendere i suoi confini. Io non ho nulla da chiedere all'Austria. L'Austria fa bene a difendere i suoi confini, come fanno la Spagna, la Francia, la Ventimiglia, come fa Malta, come fa la Grecia. E' la politica italiana che non difende i suoi cittadini. Quindi io all'Austria non ho niente da chiedere. Difendono i loro cittadini e fanno bene a farlo. Io me la prendo con la premiata ditta Renzi Alfano, che invece espone l'Italia ad essere punto di arrivo di chiunque al mondo. Oggi sono usciti i dati, record di morti nel mar Mediterraneo nel 2014, 3.419 immigrati hanno perso la vita nel mar Mediterraneo. Sono 3.419 morti sulle coscienze degli amici di Mare Nostro. Perché più gente parte, più gente muore. A Cisina tedesca, Depia, Armelini, prego. Sì, io volevo rimanere sul tema dell'immigrazione. Le volevo chiedere, intanto c'era stato uno studio, leggo, ripreso dal Corea della Sera il 23 novembre, che diceva che l'immigrazione in Italia porta un vantaggio netto all'economia di 3,9 miliardi. Quindi volevo sapere la sua opinione su questo e se lei quindi può condividere che l'immigrazione può essere una risorsa, visto che studi scientifici dimostrano che la maggioranza degli immigrati lavorano, pagano le tasse e quindi portano ricchezza. E la seconda cosa, volevo chiedere, i dati di ieri dell'Istat sull'emigrazione record dall'Italia dimostrano che la prima regione per immigrazione è la Lombardia. 16.000 su 82.000 partenze. Quindi una politica più ressettiva dell'immigrazione non potrebbe danneggiare la sua stessa regione? Grazie. I dati del Corea della Sera erano assolutamente parziali. Detto questo, io ripeto che l'immigrazione regolamentata e qualificata è un valore aggiunto positivo. L'immigrazione numericamente controllata è un innesto positivo per qualsiasi società, compresa quella italiana. Quella che combattiamo non è l'immigrazione to cure, è l'immigrazione incontrollata e senza regole. L'immigrazione sul modello svizzero, canadese, australiano, tedesco è un'immigrazione positiva. L'Italia ha l'anarchia, l'Italia ha il caos. Quindi il caos non porta aiuto né a chi arriva né a chi qua è. E infatti molti dei nostri ragazzi sono costretti a scappare perché chiudono mediamente 120 aziende al giorno anche sotto l'era di sua maestà Renzi chiudono 120 aziende al giorno. Oggi stanno chiudendo 120 aziende. Quindi è chiaro che l'immigrazione italiana e soprattutto lombarda, dove la crisi si fa sentire in maniera assolutamente pesante, sarebbe la prima controimmigrazione da riattirare in casa. Però non penso che le leggi né il Jobs Act, né le normative sull'articolo 18, penso che Renzi in politica economica non stia azzeccando una. Sarà simpatico, farà i tweet, mangerà i gelati, si metterà i maglioncini colorati, ma in politica economica non sta beccando una neanche per caso. È sfortunato. Io ho visto che il flat tax, se non sbaglio, è l'unico paese nell'Europa che l'ha fatto l'Ungaria. Io volevo chiederle, lei ha parlato bene di Vittorio Urbani, voleva sapere che sono le altre lezioni che lei ha imparato di lui e che l'Italia può imparare l'Ungaria? Mi piace molto. L'approccio di Orban in Ungheria me lo rende simpatico il fatto che sia per molti nel Parlamento europeo del politicamente corretto un nemico pubblico, da molta stampa sia additato come un personaggio pericoloso, votato dal 50% dei suoi cittadini, questo mi attira tutte le sue simpatie, spero di andarci il prima possibile, anche perché chi ha il coraggio di dire dei no pesanti alle istituzioni europee che sono istituzioni assolutamente negative, vuol dire che ha coraggio. I risultati economici, quest'anno poi sulla flat tax, se vuoi aggiungere qualcosa Armando ovviamente, lascio a te, i tre paesi europei che crescono di più, guarda caso, non hanno l'euro in tasca, e sono la Polonia, l'Ungheria e la Gran Bretagna, quindi evidentemente non avere l'euro in tasca è una coincidenza fortunata, e le politiche economiche ungheresi, sicuramente l'Ungheria non è paragonabile all'Italia, però è un caso che stiamo approfondendo sicuramente. Poi Armando, siccome non sono onnisciente come Renzi, non sono tuttologo, cerchiamo di appoggiarci su persone che conoscono gli argomenti di cui parlano, quindi non mi occupo di energia nucleare, ma lo chiederò a un professore, non mi occupavo di flat tax, quindi Armando se vuoi dire qualcosa a livello europeo, di quello che andiamo a presentare sabato a Milano, senza dire tutto, se no poi sabato a Milano non... Sì, sì, prego. Beh intanto c'è da dire questo, che tutti i paesi, come diceva Salvini, che hanno adottato la flat tax, cioè la tassa piatta, l'aliquota unica, crescono vertiginosamente. Il rapporto che c'è è soprattutto un rapporto vitale con il prodotto interno lordo, perché noi in questo momento abbiamo un problema per cui stiamo stringendo un cappio all'organismo. Voi immaginate se avete un cappio al collo e non circola il sangue, ovviamente l'organismo muore. Quindi chi invece in altri paesi ha adottato, e la maggior parte sono paesi dove è crollato il sistema comunista, perché sono paesi dove è stata fatta tabula rasa e dove appunto il professor Rabuschka, che è stato il consulente di tutti questi paesi, ha potuto scrivere su un foglio bianco, togliendo di mezzo tutto il rettaggio ideologico. Tutti questi paesi, abbiamo detto alcuni, ma ci sono l'Estonia, la Lituania, ma la Russia in particolare, che ha visto crescere di sei volte il proprio PIL e anche il proprio introito di tasse, perché noi ci preoccupiamo tanto del fatto di come possiamo sostenerla. In realtà non ci rendiamo conto che ogni anno viene messo a bilancio dello Stato una cifra che poi non corrisponde all'effettivo incasso, perché le persone poi non riescono a pagare queste imposte. Per cui c'è un'imposta scritta e poi c'è un'imposta non incassata. Quindi questa è un po' la realtà del momento. Poi ci sono altre cose, ma vi lascio. Va bene, grazie mille. Passiamo alla prossima domanda a Sandra Wiersta. Scusami, prima a Constanze Roescher e dopo a Sandra Wiersta. Prego, Constanze Roescher. Sono Constanze Roescher di Velti, Berlino. Lei è uscito dalla Padania, si può dire, diventando un politico di livello nazionale. il sud Italia ha tantissimi problemi, c'è la criminalità organizzata, che poi ormai è emigrata al nord e anche nel resto d'Europa. Che cosa propone per questo problema, che certamente non è risolvibile soltanto con la FLE? Certo, noi presenteremo prima di Natale il progetto politico amico della Lega che si presenterà in tutto il centro e sud Italia, visto che ci stanno arrivando decine di migliaia di richieste. Evidentemente le vicende di Roma ci impongono di valutare con estrema attenzione tutte le richieste di adesione, perché sicuramente la maggior parte sono persone nuove alla politica, entusiaste. Magari qualcuno pensa che la Lega che sta crescendo sia un tram per farsi i suoi interessi e quindi non vogliamo fare l'ufficio raccolta riciclati umani. Quindi valuteremo con estrema attenzione tutto il percorso che faremo. E per estirpare la malavita al sud occorrono le maniere forti. Non occorrono solo ricette fiscali, occorrono le maniere forti. Se la Lega tornasse al Governo sicuramente non avremmo i guanti di velluto nei confronti di nessuno. Purtroppo il Governo Renzi sta andando in direzione esattamente opposta, depenalizzando una notevole serie di reati. Io ci andrei giù con mano pesantissima. Ad esempio in Italia non esiste più l'ergastolo. Per fare un esempio, esiste solo sulla carta ma la galera a vita non c'è più per nessuno. Invece certi soggetti non dovrebbero più vedere la luce del sole per quanto mi riguarda. E sul tema sicurezza, legalità, non in questo caso legato alla mafia, alla criminalità, un'altra proposta di legge che abbiamo presentato riprende una sperimentazione già in vigore in alcuni paesi europei che riguarda la castrazione chimica. Visto che ormai gli episodi di violenza sessuale in Italia sono purtroppo all'ordine del giorno e quindi in via sperimentale già in fase attuativa in diversi paesi d'Europa e del mondo per quanto mi riguarda uno che compie violenza sessuale una volta deve essere messo in condizioni di non poterla più fisicamente compiere la seconda volta. Sono Violi a Sandra Vista, corrispondente a Romania. Un po' di mesi fa, lei, quando gli avevo chiesto se faceva un pensiero a essere o sarà il futuro leader di centro-destra, lei ha sorriso solo. Adesso, dopo i sondaggi delle ultime settimane, voglio sapere se ha cambiato idea e poi, come sembra, lei ha riuscito anche a Berlusconi a suggerire, per così dire, e pensa a un flat tax di 20%, lei invece propone a 15%. Ci dica come riuscirà a farlo a 15%. Innanzitutto, ho sorriso a loro e sorrido anche oggi. Primo, perché il centro-destra non c'è. Secondo, perché il progetto del centro-destra, se ci sarà, e gli eventuali leader del centro-destra, se ci saranno, dovranno essere scelti dai cittadini italiani nelle piazze. Quindi non saranno le segreterie di partito a decidere questo o quello. Berlusconi ha detto il 20%, sono contento perché, quantomeno culturalmente, sposa la causa, noi siamo convinti che sia più percorribile, più utile, più coraggioso, ma anche più sostenibile di posti del 15%. Lo documenteremo numeri alla mano, visto che, volendo essere forza di governo, noi ci proponiamo per andare al governo in Italia, non per fare eterna opposizione, evidentemente. Quindi, se saremo forza di governo, dovremo mantenere quello che abbiamo detto quando eravamo all'opposizione. Quindi, questo vale per l'euro, vale per gli studi di settore, vale per la legge Fornero, vale per la flat tax. E sabato proveremo a documentare, sperando di essere smentiti da qualcuno, ma contando di non esserli, come con un alicota al 15%, l'iniezione positiva per l'economia italiana sarebbe ancora maggiore rispetto al 20% prospettato da Berlusconi. E sono convinto che convinceremo anche Berlusconi. Labrinopoulos? Sono Labrinopoulos della stampa greca. Buongiorno, onorevole. La Grecia va in elezioni anticipate, come secondo per il Presidente. Se vince la sinistra radicale o la destra dell'alba dorata, andranno fuori dall'euro. Lei che mi può dire su questo? Non penso, anzi Tsipras l'ha dichiarato, che comunque non mette in discussione l'euro forse per tranquillizzare i mercati. Io non voglio tranquillizzare assolutamente nessuno, quindi i greci sono stati vittime sicuramente di una cattiva politica interna, ma anche di un massacro che arriva dall'esterno. Quindi mi auguro che in Grecia si torni a lavorare e ad avere un po' di speranza nel futuro. Gli elettori sono sovrani, non so chi vincerà. spero che vincerà qualcuno che non ha mai governato negli ultimi anni. Però a occhio temo che chiunque vinca in Grecia non avrà la forza, né la voglia, né la possibilità di mettere in discussione l'euro. L'Italia potrebbe farlo, la Francia potrebbe farlo, la Grecia oggi non penso che possa farlo. Dunque mi auguro che i greci votino qualcuno che non è corresponsabile del disastro di questi ultimi anni. Proprio il giornalista russo e poi dopo il giornalista russo. Andrei, papà, tribuna russia. Prima di tutto, con grazia per... Forse si deve sedere, ci sono le telecamere dietro. Prima di tutto, con grazia per il successo del regionale. Con tutte queste camere vedo che la sua probabilità cresce ogni mese. Seconda cosa, un breve commento. Perché secondo lei c'è così tanta furia da parte degli USA per la Russia e per la Putin? Non ha paura che nessuna dichiarazione in confronto della Russia, coraggiosa anche, differente da Bruxelles e da Washington, le potrà mettere in guai, cioè avviare qualche compagnia propagandistica in media? Grazie. Beh, diciamo che in media è da vent'anni che remano contro la Lega in linea di massima, quindi non è una dichiarazione in più o in meno che mi fa cambiare idea. Quando sono convinto di una battaglia la faccio fino in fondo. Magari non sarà politicamente corretta, magari mi attira qualche inimicizia, però lunedì ho incontrato a Mosca decine di imprenditori italiani, dal settore del legno al settore della moda, al settore della banca e della finanza, al settore agricolo, al settore farmaceutico, che sono disperati e incazzati. Sono disperati perché stanno perdendo anni e anni di lavoro e di sacrificio, sono incazzati col governo Renzi e con Bruxelles perché nessuno ha ancora capito quale sia il motivo delle sanzioni economiche nei confronti della Russia. Perché alla faccenda dei diritti umani in Ucraina non crede né Renzi né Juncker, evidentemente, anzi semmai chi sta subendo in Ucraina è la parte che si sente Russia. Quindi sono scelte economiche ma molto pericolose. Sono scelte economiche che ci vogliono riportare al clima della guerra fredda e io non voglio che mio figlio cresca in un clima della guerra fredda. Rapidissimamente, Giuliano Roscerelli di Agenzia Stampa Alagnus. Tre cose rapide rapide. Allora, se lei spaventa un po' la possibilità che Alba Dorata possa in qualche modo ottenere un buon risultato in Grecia, che i tempi del progetto della Lega d'Italia, chiamiamola così, e se lei imbarazza, visti gli ultimi episodi, insomma aver condiviso delle battaglie in piazza, soprattutto qua a Roma, con l'ex sindaco Alemanno, data anche la vicinanza con Borghezzo in molte di queste occasioni. Alba Dorata, no, non mi imbarazza mai il voto popolare. Quando i cittadini votano è sempre una buona notizia, chiunque votino. Quindi se un partito è democraticamente eletto e riconosciuto può essere di destra, di sinistra, di sopra, di sotto. Se è lì perché lo votano ha tutto il mio rispetto. I tempi sono brevi, io non so quando ci saranno elezioni in Italia perché dipende tutto da sua maestra Renzi, però non penso che duri molto, quindi ci stiamo preparando e i sondaggi ci dicono che ancora prima di essere presenti abbiamo una percentuale fra il 4 e il 7% in tutto il centro e il sud. Quindi figurarsi quando ci sarà un progetto politico con delle persone radicate sul territorio. noi partiamo prima di Natale, prima di Natale partiamo con le preadesioni quantomeno via internet. E su Roma, su Alemanno, io devo confessare che non ho mai avuto un gran feeling con Alemanno, anzi abbiamo litigato più di una volta perché voleva portare il Gran Premio di Formula 1, portarlo via a Monza e portarlo a Roma e quindi su quello avevamo litigato in maniera bestiale perché gli ho suggerito di sistemare le strade prima di pensare al Gran Premio di Formula 1. Mi spiace quando c'è un politico di qualunque parte sia coinvolto in una vicenda di malaffare, mi spiace. Detto questo la Lega ha tantissimi difetti, abbiamo fatto tanti errori e altri ne rifaremo, però il governo del Comune di Roma e della Regione Lazio non l'abbiamo mai avuto quindi se qualche nostro ex alleato ha sbagliato qualcosa gli auguro di uscirne pulito, però dal mio punto di vista non mi sento minimamente sfiorato. Prego. Colleen Berry, lei distingue molto chiaramente che è contro immigrazione e clandestina ma nelle piazze come si può essere sicura che questo sentimento non diventa anti-immigrato in generale anti-straniero e poi vediamo in Germania che ci sono già protesti contro i migranti lei ha qualche commento su questi? Se è una cosa da aspettare anche qua in Italia? E' la sinistra che alimenta il razzismo secondo me anche coscientemente una sinistra che sa che economicamente non ha le ricette per sciure della crisi e quindi alimenta un'immigrazione incontrollata per ottenere reazioni esasperate mai giustificabili perché la violenza non è mai giustificabile né giustificata da comunque parte venga però se la gente soprattutto nelle periferie si ribella è perché ad esempio vi do il dato di Milano il 65% dei casi popolari è assegnato a cittadini stranieri che rappresentano il 15% della popolazione e quindi delle due l'una c'è qualcosa da cambiare sull'immigrazione irregolare invece io sono assolutamente totalmente inflessibile riporterei a casa con il barcone, con la zattera, con il deltaplano, con l'aereo qualunque immigrato regolare metta piede sul suolo italiano sulla Germania non so mi auguro che ecco il no alla violenza è senza se e senza ma ovunque, ovunque in giro per il mondo altra domanda? qui c'è la sala piena non ci sono altre domande? è questo? ecco arrivano qui c'è un giornalista russo che ancora non mi ha fatto la domanda ecco no no va bene c'è una domanda del giornalista russo prego ormai sono più in Russia che in Italia sì anche qui in Italia siamo pochi ma fatti va bene allora una domanda questo partito amico della Lega potrebbe essere un partito vero politico cioè classico o qualche movimento di tipo 5 stelle ma più controllabile e serio? grazie no non sarà un partito strutturato con le sedi e con tutto primo perché economicamente non ce lo possiamo permettere detto in maniera molto semplice secondo perché la politica di oggi è cambiata e quindi sarà molto snello molto fluido molto giovane quindi non solo su internet evidentemente anche io andrò personalmente fisicamente ho già tutta una serie di inviti in Sicilia in Sardegna in Calabria in Puglia e ovunque però non sarà un partito alla vecchia maniera per intenderci perché i tempi impongono velocità ok lei diceva giustamente prima io non sono un esperto mi cerco di affidarmi a chi le cose le sa però lei è parlamentare europeo quindi immagino che di politica europea un po' necatrista ci può spiegare un pochino meglio questa frase che l'Europa va Bruxelles va abbattuta ricostruita da capo quindi se la Lega andasse al governo chiederebbe non solo di uscire dall'euro ma di uscire dall'Unione Europea e come pensa che si potrebbe applicare questo progetto io chiederei di rivedere tutti i trattati che a detta di qualche costituzionalista sono anche stati adottati al di fuori e al di sopra della Costituzione no però scusi questo è il fiscal compact però io le chiedo uscire dall'Unione Europea non solo credo che non c'è nessuno che disputi il fatto che i trattati fondamentali dell'Unione Europea sono anticostituzionali questo non lo dice nessuno questo credo di poterne essere piuttosto sicuro diciamo che ci sono argomentazioni convincente da parte di qualcuno per cui la cessione di sovranità non è stata fatta così come la Costituzione avrebbe previsto coinvolgendo i cittadini sicuramente no ma neanche il Parlamento in alcuni passaggi quindi io fossi al posto di Renzi domani mattina andrei a Bruxelles riprendere in mano tutti i trattati dal primo all'ultimo e li ridiscuterei senza entrare nel merito ovviamente dei vincoli idioti del 3% deficit PIL che cancellerei un quarto d'ora dopo ovviamente non lo farai da solo perché non può esserci la partita Italia e il resto del mondo ma ci sono altre realtà penso ad esempio alla vicina Francia penso all'Austria penso all'Olanda che potrebbero essere interessate a discutere di una revisione totale di tutti i trattati su cui si poggia l'Unione Europea che sono un meccanismo genialmente e maleficamente studiato dal mio punto di vista lo dico da euro parlamentare quindi non si tratta di uscire si tratta di ridiscutere secondo criteri ancora da capire se la risposta fosse no in Gran Bretagna faranno il Premier se è impegnato a fare un referendum sulla permanenza o meno nell'Unione Europea io penso che gli italiani si stiano rendendo conto che questa Europa non si può riformare ci lavoro da sette anni noi facciamo tutto quello che ci compete fare gli emendamenti gli interventi seguiamo le direttive però è il sistema che è sbagliato è proprio stiamo cercando di emendare un sistema palesemente sbagliato e quindi se la Gran Bretagna votasse per chiedere i suoi cittadini se rimanero o no in Europa a me piacerebbe che anche gli italiani potessero fare lo stesso mia domanda è questa secondo lei per riprendere l'Italia basta uscire da Euro non dovrebbe fare tutte le riforme cioè della tassa o anche burocrazia giustizia ma questo mi sembra che il governo attuale vogliono fare poi un'altra cosa se tassa fosse 15% nessuno evadrà in fisco cioè 15% non è che evadano lo stesso gli italiani beh se uno evade col 15% lo metti in galera e butti via la chiave poi adesso non è che poi ci siano gli italiani evasori per principio se uno deve pagare il 72% di tasse cosa che succede a molti produttori e imprenditori è chiaro che o non può o non vuole col 15% chi evade veramente sta in galera per 20 anni perché non ha alcun tipo di giustificazione non è che l'uscita dall'euro comporti il fatto che risolviamo tutti i nostri problemi l'euro ha aggravato sicuramente tutti i nostri problemi quindi è chiaro che bisogna fare la riforma della giustizia la riforma della burocrazia la riforma fiscale tutte queste possono essere fatte con una moneta giusta quindi il prerequisito è avere una moneta giusta in tasca poi è fare le riforme lei dice che il governo sta dicendo che le farà il governo è nove mesi che sta dicendo che le farà e quindi non vorrei fra nove mesi essere qua col governo che sta dicendo che le farà e quindi mi comincia a venire il dubbio che il governo continuerà a dire che le farà ma non le farà ok qui c'è una domanda di un giornalista prego ecco il cui non ricordo il nome grazie James McKenzie della l'agenda Reuters Reuters perché perché non vuole dire che volete uscire dall'euro direttamente noi vogliamo uscire dall'euro assolutamente noi vogliamo uscire dall'euro dunque se ci fosse un referendum voi direte che la vostra proposta sarebbe di uscire dall'euro direttamente io ho detto che l'euro è una moneta criminale quindi su questo non ho alcun dubbio un'uscita coordinata e concordata più passa il tempo più mi viene il dubbio che siano i tedeschi che usciranno per primi dall'euro perché hanno già realizzato tutto quello che potevamo realizzare detto questo la Lega è assolutamente convinta che l'euro sia una moneta sbagliata e prima ne usciamo meglio è ok Constanze Reusch aveva ancora una domanda qui davanti non è serissima la domanda può aspettare credo perché si è spogliato davanti al fotografo di oggi ed è vero che i suoi lo rifaccio lo rifaccio adesso se volete non è un bello spettacolo ci sono molti fotografi vorrei proprio una spiegazione era per l'elettorato femminile no no non abbiamo delle società di marketing che ci spiegano guarda che se ti spogli prendi i voti o se stai no è stata è stata un prendermi in giro mi sono preso in giro perché ci sono troppi politici che si prendono troppo sul serio non ho un gran fisico da mostrare e quindi ero orgoglioso del mio fisico scarsamente palestrato e abbronzato detto questo c'è anche un piccolo risvolto benefico del tutto visto che alcune foto in originale che mi sono state regalate dal fotografo verranno messe all'asta su ebay per raccogliere dei fondi per beneficenza per l'ospedale dei bambini buzzi di milano quindi questo è un piccolo un piccolo risvolto detto questo l'ho fatto per scherzare perché cerco di essere serio sul lavoro ma ridere di se stessi secondo me ogni tanto fa bene quella foto era assolutamente ridicola ci sono due che non avevano ancora fatto una domanda Tomasevic della stampa croata e poi dopo France Press prego sono Silvio Tomasevic della stampa croata l'uscita dall'euro ma si ricorda che quando c'era la lira c'era l'inflazione 20% si stampava la lira benedetta inflazione lavorai oggi l'inflazione a due cifre a due cifre sì sì magari magari l'inflazione vuol dire che sto vendendo qualcosa sto vendendo qualcosa daranno daranno la risposta che gli economisti cioè daranno la risposta a queste due cifre a lei un'altra domanda Silenzio per favore l'Europa cioè vorrebbe di nuovo fare i confini e tutto il resto cioè distruggere il mercato unico allora l'inflazione magari perché significa che sto vendendo qualcosa oggi abbiamo un'inflazione a zero perché non sto vendendo assolutamente niente quindi se non vendo niente la gente perde il lavoro e rimane a casa quindi preferisco avere un'alta inflazione perché la gente lavora spende e guadagna sui confini anche lo stesso trattato di Schengen in un momento di 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 aggressione come questo dovrebbe essere rivisto con attenzione non riguarda le merci ovviamente riguarda gli uomini il pericolo numero uno al mondo in questo momento è il terrorismo internazionale ogni giorno leggiamo di cellule che sono presenti in Europa pronte ad agire e quindi io vorrei capire chi entra in casa mia soprattutto nei panni degli altri 27 d'Europa visto che l'Italia è un colabrodo e in Italia arriva di tutto e di più senza alcun tipo di controllo fossi nei panni degli altri 27 sarei io a chiedere dei controlli ai confini dell'Italia per capire chi sta entrando in casa mia quindi io rivedrei assolutamente anche Schengen in un momento di emergenza come questo un'altra piccola domanda Lega Nord ha investito in un villaggio turistico in Istria cosa è successo con quello non ne ho la più pallida idea io sono andato in Croazia a fare le vacanze quando ero giovane però non so del villaggio turistico onestamente ah c'era Bosso quindi diciamo che adesso le situazioni attuali ci permettono di investire al massimo in un chiosco da qualche parte ok Francesco prego buongiorno volevo farvi una domanda i sondaggi di questi ultimi mesi stanno dimostrando una lega in crescita esponenziale lei non teme un effetto Peppe Grillo se posso chiamarlo così arrivate a non so 15 20 25 per cento e poi dopo un anno si sgonfia tutto come un flan e una seconda domanda ci sarebbe qualche micro autocritica perché il governo da nove mesi annuncia ma la lega è stata al governo per nove anni e la situazione di oggi è anche frutto di questi nove anni grazie sì sì io faccio autocritica ogni giorno la mattina e la sera prima di andare a letto quindi abbiamo fatto degli errori sì sicuramente tanti abbiamo ottenuto tutto quello che avremmo voluto e potuto no io personalmente sbaglio sì sbaglierò ancora sì spero di farlo in buona fede ovviamente quindi non non mi autoassolvo anzi anzi riconosco tutti tutte le nostre manchevolezze ci mancherebbe le nostre ingenuità tutti in Renzi io spero perché ripeto non sono qua a gufare quindi spero che faccia qualcosa però a occhio tutto quello che sta facendo sta portando a una a un peggioramento di tutti gli indicatori economici quindi spero che cambia perché vivo in Italia quindi non è che mi auguri di vincere le elezioni mentre il paese è al tracollo faremo la fine di Grillo non penso intanto mi godo il fatto che l'anno scorso di questi tempi stavamo facendo il congresso della Lega Nord che molti giornalisti italiani non stranieri davano per morta finita e quindi io ero il segretario che facevo il curatore fallimentare e dopo un anno direi che che la situazione è completamente positivamente cambiata la differenza con il Movimento 5 Stelle che io voglio sottolineare è che noi abbiamo un progetto noi abbiamo un progetto per l'Italia e per l'Europa abbiamo un progetto per la sanità per il fisco per il welfare per le scuole per l'università per la cultura per il teatro mentre il Movimento 5 Stelle che è stato bravissimo a prendere tanti voti di gente che vuole una politica onesta e a cui sono assolutamente vicino non ho ancora capito che tipo di progetto d'Italia e anche di Europa abbia perché adesso lanciano un referendum un consultivo sull'euro che è una presa in giro una perdita di tempo quindi la differenza che vorrei sottolineare fra la Lega e il 5 Stelle è la concretezza e la prospettiva quindi io penso che noi offriamo agli italiani poi può piacere o non piacere però un modello d'Italia e di Europa che altri invece non ho ancora capito come vedono detto questo io spero di sgonfiarmi quando arriviamo al 51% scusi a proposito del referendum di Grillo potrebbe spiegarci perché non lo volete sostenere cosa c'è che non vi piace ma l'ho detto perché è una perdita di tempo che è una presa in giro si tratterebbe di un referendum consultivo quindi valore zero in Italia se ne fregano dei referendum ufficiali figurati dei referendum consultivi che la Costituzione peraltro non prevede e quindi a parte i tempi lunghi avrebbe efficacia zero cioè facciamo un sondaggio è uguale come se andiamo un sondaggio a pagnoncelli e abbiamo lo stesso identico risultato può essere culturalmente utile nel senso che qualunque apporto culturale al fatto che l'euro sia la moneta della disoccupazione è il benvenuto ma in termini concreti tornando alla domanda del collega precedente in termini concreti ed effettuali ed effettivi ha valore pari allo zero le farò una domanda un po' personale cioè romena che ne pensa del nuovo presidente della Romania Klaus Johannes è romeno però diciamo nato in una zona tedesca ha delle idee fosse ne ho letto solo la biografia su internet quindi non mi permetto di dare un giudizio perché spesso quello che gira in rete non è esattamente la verità quindi mi permetterò di dare un giudizio dopo una conoscenza personale diretta quindi non voglio non voglio essere fare un torto a nessuno ok Stephen Ferris the time di nuovo lei ha detto che lei è diverso voi siete diversi del 5 stelle perché avete un progetto ma anche perché avete una storia e la storia diciamo nel governo della legge non è stata molto diciamo brillante non soltanto dal punto di vista di efficacia ma anche c'è stato il problema di soldi pubblici eccetera come potremmo sapere che se voi riuscite a tornare al governo stavolta sarà diverso dall'ultima come lei può garantire che non ci saranno questi problemi una seconda volta perché ci metto la faccia perché ci metto la faccia e perché abbiamo cambiato se non tutto tantissimo rispetto alle precedenti gestioni per cui apro e chiudo la parentesi per i colleghi stranieri non c'è stata ancora una condanna che sia una io sono qua ancora che aspetto che venga provato e dimostrato tutto quello che abbiamo letto sui giornali perché non c'è stata una condanna che sia stata una quindi arriviamo alla fine del percorso io ricordo ad esempio che per due anni sui giornali italiani non so se c'era anche sui giornali stranieri per due anni c'è stata l'inchiesta sulla Lega che avrebbe preso milioni di euro di tangenti da fin meccanica per vendere degli elicotteri in India e io milioni non li vedevo ho detto ma chissà dove sono finiti ci hanno messo due anni per archiviare nel senso che hanno detto scusate ci siamo sbagliati non c'è stata corruzione non era vero niente però per due anni noi ci siamo subiti il fatto che quindi quando qualcuno verrà condannato quel qualcuno pagherà personalmente se e quando qualcuno verrà condannato detto questo noi abbiamo cambiato tutta la struttura del movimento a prescindere amministratori avvocati segretari tutto ho capito bene che lei non è sicuro che c'è stato un problema prima no no me lo provi no io ho cambiato io sono arrivato prima dei giudici e quindi ho cambiato vediamo se arriverà qualche condanna perché in Italia non mi stupirei di nulla e no non possiamo parlare di tutto oggi il nostro nuovo partito lo presenteremo la prossima volta Lisa Palmieri e poi ci fermiamo Lisa Palmieri prego grazie Lisa Palmieri Jerusalem Post lei prima ha detto che non le preoccupa se dovesse aumentare il voto per l'Alba Dorada e poi ha detto che però è contro la violenza eccetera nella sua visione di giustizia il fatto che le pene devono essere inflitti c'è anche sempre innanzitutto c'è il pericolo che la giustizia non è giusto cioè che ci sono sbagliato poi la crescita della destra razzista antisemita in Europa sta veramente crescendo lei sa bene che nella storia i partiti cioè l'elezione democratica di un partito non vuole sempre dire garanzia la democrazia non è sempre una garanzia perché nel passato partiti razzisti eccetera sono stati eletti democraticamente allora lei come prevede l'antidoto a tutto questo o mettiamo fuori legge dei partiti allora se un partito viene messo fuori legge allora non si presenta alle elezioni altrimenti la patente di democrazia non la possiamo dare ne io ne lei evidentemente se un partito si può presentare democraticamente alle elezioni e prende dei voti quel partito merita rispetto come tutti gli altri qual è l'antidoto al ritorno del razzismo l'antisemitismo ecco essere antisemite nel 2014 mi sembra veramente da fuori di testa però il razzismo è opinabile come concetto l'antidoto è un'immigrazione regolamentata e controllata chi alimenta e lo ripeto chi alimenta secondo me scientemente il razzismo in Europa è la sinistra con la sua politica di immigrazione indiscriminata per poter poi avere il nemico razzista brutto cattivo xenofobo eccetera eccetera l'antidoto è darsi delle regole e farle rispettare bene ok grazie a tutti